Santo Rocco lo gran potente è il ristoro della gente, è il rifugio dei peccatori che al Santo Rocco lo protettore. A me è stato chiesto di parlare della festa di San Rocco, è una festa a cui io sono particolarmente legato, anche perché i ricordi di infanzia riaffiorano sempre, ogni qualvolta percorro quella via Cavour che porta su fino al santuario del Santo. Ho anche realizzato in passato puntate di radici dedicate a questi festeggiamenti, un po' particolari, ma decisamente molto belli, soprattutto per le radici che la festa ha. Quest'anno abbiamo pensato come televisione di regalarvi un prodotto importante, perché riprenderemo in diretta sia regionale che mondiale, la manderemo anche all'estero attraverso lo streaming e tutto il percorso che la Statua del Santo percorrerà per tutto il centro storico, fino ad arrivare alla Chiesa Matrice dove poi realizzeremo delle interviste per chiudere il collegamento nel punto praticamente quasi più alto del paese di Gioio Saioni. Che dire, venite tutti alla festa di San Rocco, perché decisamente è una festa che dà grande spiritualità e anche divertimento, perché no? Grazie a tutti.